A Montecitorio e Palazzo Madama le sedute sono monopolizzate dagli interventi degli uomini e delle donne di Giorgia Meloni, fermati nelle loro maratone verbali soltanto dal regolamento e dai vicepresidenti di turno. Giorno dopo giorno, le sedute di Montecitorio e Palazzo Madama si susseguono da due mesi ormai sempre uguali a se stesse. Ogni tanto, come martedì mattina in Senato con un nuovo record di durata flash, con sei minuti dalle 11 alle 11,06, con le comunicazioni della vicepresidente Paola Taverna, e nemmeno quasi più i brividi dei cambi di gruppo. Attenzione! Ho detto quasi, anche questa settimana. Un passaggio c'è stato. Quello alla Lega dell'ex azzurro siciliano Antonino Salvatore Germanà. Che ha lasciato il misto. Dove era prodato con la componente di Maurizio Lupi. Del sottosegretario alla salute Andrea Costa e di Vittorio Sgarbi. Che si chiama Noi con l'Italia Usei Rinascimento ADC. E poi, anche questo un piccolo classico degli atti parlamentari, c'è stato un gruppetto che ha cambiato nome. Gli, europeisti Maie PSI. Ora si chiamano solamente, Maie PSI, mandando definitivamente in soffitta anche a Montecitorio l'infausto nome europeisti, i responsabili e costruttori di Conte, spuntati sotto l'ombrello del Maie, il movimento associativo italiani all'esteroe del partito socialista di Riccardo Nencini. Ma, per l'appunto, è quasi calma piatta rispetto alla raffica di cambi di gruppo delle scorse settimane. Un'increspatura nel mare tranquillo e limaccioso delle sedute standard. Che, ormai, hanno un andamento classico. I deputati e i senatori dei gruppi di maggioranza intervengono il minimo possibile. Solitamente per dichiarazioni di voto finale su un provvedimento. O per rafforzare un concetto. Ma, per l'appunto, tutti i gruppi di maggioranza sono soliti sostanzialmente tacere. Grazie a tutti.